Un catalogo che dà la possibilità di entrare in punta di piedi nella vita artistica del maestro Ruggero Di Lollo, di seguirne il percorso artistico e poetico che durante l'arco dei 50 anni si dipane in una ricerca incessante, stupita, a volte ossessiva, spesso magica della luce. E' questa ricerca che accomuna esperienze pittoriche che potrebbero apparire a un primo e superficiale sguardo profondamente diverse, quasi dissonanti, espressione di diverse mani e di diverse sensibilità. Personaggio strano, incompreso, ironico e tragico. Ruggero Di Lollo è tutto questo ed altro ancora. Gran parte dei quadri che sono riprodotti, anche le sculture che sono nel libro, sono nati qui a Gaeta. Dal 1970 fino ad oggi il luogo dove lavoro è Gaeta, per cui mi sembra che ha fatto una bella cosa a farla ufficializzare questa presentazione. E' un libro che percorre dal 1960 fino ad oggi tutto l'iter pittorico e scultoreo. E c'è ovviamente la biografia accuratamente realizzata, fotografie che la Casa di Drice esige di una maniera perfetta, perché è una delle più grandi del mondo. Quando nasce effettivamente l'idea di realizzare questo libro e soprattutto perché? E' nata quattro anni fa perché penso che ogni 50 anni di attività va fatta una cosa del genere, per cui è una sintesi, chiaramente. Questo libro ha sette capitoli. Il primo che riguarda i quadri della montagna quando ero nel Molise, e poi quando ero studente di Belle Arti a Roma. Poi dal primo ottobre 68 arrivai a Gaeta e non sono più andato via. E ci sono i pannelli degli anni 70, il Cantico dei Cantici, i quadri del mare, i sacchi di mare e le sculture, i monumenti che ho realizzato per gli emigranti, diversi per Padre Pio, eccetera. Tutta questa attività, ripeto, è nata qui a Gaeta, nella luce di Gaeta. Grazie a tutti.